Come nasce nella mente la violenza che segna il degrado urbano, quell'aggressività primordiale codice d'appartenenza e di esclusione, fatta di parole di sfida e di rituali di sopraffazione. È il tema esplorato dal vivo nell'insolito lavoro di Luigi Morra, Tvatt, in scena il 17 e 18 febbraio al teatro NEST di San Giovanni a Teduccio con le musiche originali dei Camera. La tenerezza del rapporto tra un padre e un figlio disabile, fatto di fragilità e d'amore, d'errori e di sorrisi, ma soprattutto di scambio reciproco, di contaminazione e di crescita. Interpretato da Francesco Colella, lo spettacolo Ziguli è una storia agrodolce e delicata, in scena al teatro Area Nord di Piscinola, sabato 17 e domenica 18 febbraio. Chi è oggi Don Quixotte? Un uomo che sta al mondo conservando lo stupore e la capacità di guardare le cose oltre la loro desolante apparenza. Da venerdì 16 a domenica 18 torna a Sala Icos la compagnia Garbuggino Ventriglia, interprete dello spettacolo In terra, in cielo, con le musiche scritte ed eseguite da Gabriel Baldacci. Sala Icos, il NEST e il teatro Area Nord possono essere raggiunti dal centro della città con il Polibus, la navetta gratuita del Comune di Napoli disponibile su prenotazione.